Ciao! Benvenuto nel canale di AgriEuro. In questo video ti presenteremo le caratteristiche principali dell'abbacchiatore elettrico Agrotecnic X.32 Mark II. Ti guideremo attraverso il montaggio, illustrandoti come assemblarlo facilmente, in autonomia quando lo riceverai a casa. Ma prima di iniziare, voglio ricordarti che AgriEuro è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio per tutta la vita del tuo prodotto. In caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxi-officina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. L'abbacchiatore elettrico Agrotecnic X.32 Mark II è un'innovativa soluzione per la raccolta delle olive, progettata per offrire prestazioni superiori attraverso l'integrazione di tecnologie avanzate e materiali pregiati. Dotato di un motore a spazzole con potenza di 400 W e alimentazione a 12 V, questo strumento raggiunge una velocità di rotazione della testa di 1.850 giri al minuto, garantendo una raccolta rapida e efficiente. Il sistema di raccolta si vale di una testa con movimento roto-vibratorio a 360 gradi, equipaggiata con 32 bastoncini in termoplastica. La canna in carbonio, pesante solo 2.8 kg senza cavo, conferisce all'abbacchiatore una leggerezza e una maneggevolezza eccezionali, mentre la possibilità di aggiungere estensioni ne aumenta la versatilità. Questo strumento garantisce una resa variabile tra 150 e 250 kg di olive per ora, a seconda delle condizioni ambientali, rendendolo un'attrezzatura ideale per operatori professionali e hobbysti alla ricerca di un prodotto affidabile e di alta qualità. Ed ora, ecco la guida di montaggio del prodotto. Visita il sito AgriEuro, e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.